Le molisane a lavoro con climi diversi all'interno dei rispettivi spogliatoi, abbastanza teso quello del campo basso. Stamattina la squadra ha svolto lavoro in palestra nel capoluogo, si attende la partita contro il Montegiorgio per provare a dare la svolta in positivo al campionato. La società ha deciso di continuare con il tecnico Cudini anche se l'impressione collettiva che per ora rimane tale è che l'allenatore sia soggetto ad una fiducia a tempo visti i risultati deludenti di questo inizio di campionato. Per Cudini ed il suo staff in questo momento sono davvero poche le attenuanti. Nella post partita di domenica scorsa il tecnico si è limitato a parlare di episodi che girano a sfavore ma va detto che lo svantaggio in trasferta è ormai un fatto consueto e successo a Tolentino, a Pineto e domenica scorsa. Ieri fuori Alessandro che soffre ancora i postumi della botta al costato di due settimane fa. Sembra che lo staff medico si sia riservato di concedere un riposo di qualche giorno all'attaccante rosso-blu che non ne dovrebbe compromettere la presenza domenica. Dovrebbe essere squalificato Pizzutelli, centrocampista che appariva in crescendo. Stando ai tanti commenti visibili sui social ma anche ai tanti commenti che raccogliamo dal vivo, la piazza è scontenta e delusa ma per certi versi anche irritata. I mancati risultati e la ripetizione degli stessi errori da parte dei giocatori sono un film già andato in onda anche nelle recenti annate. Sembra quasi che regni un anatema sulla Campobasso calcistica per chi ovviamente volesse credere a queste superstizioni. La verità, stando a quanto suggerisce il campo giudice supremo, è che almeno per ora i tecnici potrebbero aver compiuto più di un errore di valutazione anche circa gli elementi su cui è stato rifondato il Campobasso quest'estate. Sono osservazioni fatte oggi con il supporto del campo e che da qui in avanti possono essere soggetti a sviluppi sia positivi che confermativi. Il Campobasso è in una fase di transizione, se davvero vuole capovolgere l'inerzia deve inaugurare un filotto di vittoria almeno fino alla riapertura del mercato. In quella sede la società farà le dovute valutazioni in entrata, forse anche in uscita, ma da domenica prossima al primo dicembre sarà necessario cambiare rotta con decisione sotto il profilo dei risultati e del gioco.